Abbiamo accolto con estrema soddisfazione e anche sollievo la decisione del Tribunale di accogliere il piano concordatario di ATA, con sollievo perché pensiamo a tutti i lavoratori e le famiglie dei lavoratori che in questo modo sono tutelate e quella è la prima cosa, quella che ci stava comunque più a cuore. Sappiamo che il percorso che si apre adesso sarà ancora un percorso lungo e complicato come è stato il percorso che ci ha portato fino a questa pronuncia del Tribunale, però siamo pronti a affrontarlo con senso di responsabilità e con grande impegno e grande lavoro. Tra senso di responsabilità come ad esempio l'accollo che ci siamo fatti come Comune di Savona degli oneri di Cimamontà che era imprescindibile per il buon esito della decisione del Tribunale. Quindi noi proseguiamo su questa strada intrapresa dall'amministrazione comunale e soprattutto intrapresa dal CDA di ATA.